E' sulle pagine del Corriere Romagna che Filomena Sommella, vedova di Salvatore Chianese, il vigilante succiso a Ravenna esattamente un anno fa, confida la sua fiducia negli inquirenti sperando di capire chi e perché ha ammazzato suo marito il 29 dicembre 2015. E' piena notte, un normale giro di perlustrazione come tanti, l'uomo di origini casertane si ferma come di consueto in una cava, scende dall'auto, prende le chiavi e apre il lucchetto di una sbarra. E' in questo momento che il killer gli spara ben nove colpi di fucile all'addome e alla testa ammazzandolo sul colpo. Un delitto perfetto studiato nei minimi particolari. L'omicida sapeva perfettamente i movimenti della guardia giurata e ha scelto esattamente dove agire. Un assassino spietato e senza scrupoli che per depistare le indagini ha simulato una rapina portando via alla vittima portafogli e pistola d'ordinanza. La moglie, sulle pagine del quotidiano locale, non sa spiegarsi il motivo di questa tragedia. Non smetterò mai di credere nella giustizia, dice rispondendo alle domande del giornalista. Secondo quanto emerso, il 42enne non sarebbe stato coinvolto in giri pericolosi, ma solo rinomato per la sua dialettica dai toni molto diretti. Gli inquirenti, nel silenzio del loro lavoro, procedono con le indagini ma per ora il killer pare non abbia commesso il minimo errore.